Sì, 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 sì Sì, sì, sì Si aspettava bello Sì, 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 sì Don't you? Don't you auguri? Quando vi siete conosciuti? 2016 L'anno 2016 Ci siamo riapprocciati grazie a Cici D'Agostino Io ho visto lei, lei ha visto me e ci siamo innamorati Poi abbiamo fatto un caffè, dai, usciamo insieme Poi mi ha portato al giapponese, quindi... E' scoppiato l'amore Mi ha fatto penare ma alla fine ha capito qual era la cosa giusta da fare Felice, grazie Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà E consapevoli del significato della vostra decisione? Si Si